Io non so come sia possibile che già il 30 di novembre, domani il primo di dicembre, almeno c'è una bella consolazione, apre il motor show. Io mi ricordo quando ero ragazzino, avevo 16 anni, non vedevo l'ora, era un appuntamento attesissimo, mi mettevo via tutti i soldini per pagarmi il treno, pagare il biglietto che costava una follia ed andare a vedere una manifestazione bellissima, tante moto, tante belle ragazze, tante auto, tanto show. Chissà com'è adesso il motor show. Andiamo a vedere. Dunque, come ci posso andare al motor show? In macchina, in aereo, direi di no, in treno? Potrei andarci in treno, andiamo in stazione a vedere se ci sono ancora i treni speciali. Vediamo un po', treni speciali per il motor show. Niente, niente treno speciale. Sono veramente tristissimo che non ci sia il treno speciale per il motor show. Era un bel momento, condividevi con i tuoi amici dei sogni, un momento di passione per l'auto, la moto, per le belle ragazze, ovviamente. Se ti dico motor show, cosa ti viene in mente? Gonne motori. Gioia e dolori. Esatto. Inventiamoci una centrifuga motor show melograno. Melograno, ananas e al motor show direi pere. Guarda che colorino che ha questa centrifuga. Ma sai che mi è venuto in mente con cosa andare al motor show? Ci potete andare con quella Kia Ottima Drive che è ibrida, quindi ha qualcosa in comune col treno, quindi mi rilaccio anche al passato. È una vettura che anticipa sicuramente i tempi di quello che arriverà a brevissimo anche nel top di gamma di tantissime vetture che guidiamo tutti i giorni, perché il plug-in hybrid aiuta moltissimo nel ciclo di emologazione, aiuta a essere più green, grazie ad esempio in questo caso a una batteria di 9,8 kilowatt ora che assicura fino a 50 chilometri di autonomia in elettrico. Una vettura che si distingue dalle normali, optima per l'introduzione di questa nuova calandra con finitura in pieno black, finitura blu anche nella parte bassa ad indicare il mondo ecologico e poi ritroviamo il blu anche qui nel badge eco plug-in, nella minigonna, vi faccio notare già anche la finestrella di ricarica delle batterie e poi anche nella zona posteriore, dove la parte bassa del paraurti è rifinita in blu, esattamente come in blu il badge eco plug-in qui. Adesso andiamo a vedere quanta batteria ho all'interno di questa Kia Optima Drive, ho un ottavo di serbatoio, andiamo a vedere qui nel quadrante, eccoci qua, intervalli di ricarica, 8,4 litri, vabbè, è appena acceso, è appena resettato, 11% di batteria, le stazioni di servizio più vicine sono indicate, quelli qui sono presenti in mappa, questa è la stazione di servizio in realtà di benzina, stazione di ricarica invece per quanto riguarda l'elettricità, eccolo qua, ce n'è una all'Ikea a Padova, ma ce ne sono anche qui a Vicenza nella mia città. Direi però che è arrivato il momento di fare il pieno di energia, questa Kia Optima, così domani posso partire tranquillo. Abbiamo recuperato da bagagliaio il nostro insetto di ricarica, andiamo a collegarlo alla vettura. Se dall'esterno il collegamento della spina e questa luce verde fanno capire che la Optima Hybrid è in ricarica, all'interno lo si può evincere dalla presenza di questa spia con la spina rossa, il tempo di ricarica restante è 9 ore, 13% dall'11 iniziale, un tempo di ricarica più alto rispetto alle 5 ore e mezza dichiarate, credo che si velocizzerà nel corso della ricarica, una velocità che varia anche in base alla temperatura esterna e allo stato di ricarica della batteria stessa, per cui ci sono tante variabili che poi vanno a inficiare su quello che è il tempo in cui queste 9,8 kilowattora raggiungono il massimo. Direi che il pieno di energia domani dovrebbe assicurarci 50 km, sono davvero curioso di vedere quanti veramente ne riesce a fare andando al motorshow di Bologna. Prima di andare a nanna voglio vedere la potenza istantanea, 2,9 kilowattora sta consumando la somma della mia casa più la vettura collegata, quindi non è poco, mi rimane solamente mezzo kilowatt di gioco, questa sera mi sa che il fornello è l'inuzione, non lo uso. Che la vettura sia carica ce lo indica il led verde che si è spento e anche ovviamente l'indicatore della carica residua che è al massimo, invece quello che non è al massimo è la benzina. Ok, andiamo a vedere, livello eco, cronologia, efficienza carburante, ok, dovremmo essere al 99% di batteria, eccolo qui, la vettura si è accesa in modalità a motore, questo probabilmente perché ha bisogno, è molto freddo, siamo a 2 gradi, probabilmente ha bisogno di scaldare alcuni servizi, tra cui anche appunto il riscaldamento dell'abitacolo e altre funzionalità della vettura, poi probabilmente si sposterà in modalità completamente elettrica, andando a consumare quello che c'è dentro alla batteria. Non attivo l'active eco, anzi lo attivo, così abbiamo il massimo della resa da un punto di vista elettrico e cerco di guidare non pianissimo ma neanche troppo veloce, quindi voglio vedere veramente in un uso normale quanti chilometri riusciamo a fare con questa batteria. Una cosa che mi ero dimenticato di dirvi è che i chilometri di autonomia in batteria sono 55. Ok, pieno fatto, serbatoio da 50 litri, ne avevo più o meno 3-4 dentro, adesso andiamo a pagare, poi andiamo al motor show. E ne approfitto anche con carplay per ascoltarmi la mitica zanzara. Ok, siamo ancora in modalità EV, stiamo viaggiando a quasi 90 km orari, proviamo ad accelerare un pochino, vediamo se, eccola qui, la modalità EV si è spenta, siamo passati sopra i 90 km orari, entra definitivamente il motore a benzina però con la collaborazione della batteria, la vedete nel flusso di energia, per cui da ora in avanti inizia la collaborazione e vediamo quanto poi durerà anche la batteria se arriva a Bologna, carico o scarico, vediamo. Autoguida level 2, come vedete la vettura in questo momento sta mantenendo autonomamente la corsia, siamo a 130 km orari, sterza autonomamente mantenendomi appunto all'interno della mia carreggiata. Mi segnala ovviamente se devo tenere le mani sul volante, mi segnala la presenza di veicoli all'interno dell'angolo cieco dello specchietto, se mi stanno ovviamente superando o se c'è una presenza di una possibilità di impatto e poi la vettura è in grado di accelerare e frenare autonomamente grazie al discontrol adattivo. Siamo a 130 km orari, la vettura come vedete sta viaggiando in modalità a motore, sta ricaricando, sta tenendo carica anche la batteria, ovviamente per quanto possibile la gestione di tutta questa cosa è automatica, volendo potrei anche attivare la modalità completamente elettrica, potrei viaggiare in elettrico anche a 130 km orari, ma evidentemente vedete in questo momento sono completamente in elettrico, ma non viene ritenuto intelligente, non viene ritenuto comodo utilizzare la batteria per farmi andare in autostrada e quindi giustamente il sistema la conserva. Andiamo a vedere un po' quanto sono i consumi, siamo a 5,9 litri ogni 100 km viaggiando in autostrada a 130 km orari, non male. Eccoci qui, siamo arrivati al casello di Bologna, 6,8 litri ogni 100 km avendo resettato a casa, direi che il risultato non è niente male, abbiamo viaggiato a 130 km orari di cruise control, mi sono rimasti, vediamo all'interno della batteria, 41 km che probabilmente userò adesso per arrivare in fiera, vediamo. Usciti dall'autostrada, andatura decisamente più contenuta qui in tangenziale, ci stiamo emettendo ed in effetti la vettura viaggia solamente in elettrico, è anche bello viaggiare solo in elettrico come stamattina quando sono partito, è una bella sensazione, davvero. Siamo arrivati al parcheggio del Motor Show, 6,8 litri ogni 100 km di consumo di carburante partendo da casa, quindi tanta autostrada e un po' di città, elettricità abbiamo consumato circa 10 km rispetto a quando siamo partiti, l'autonomia residua totale ancora di 641 km, 75% la batteria ancora residua, quindi direi non male. Cosa dovrebbe venire fuori? Non si capisce, però aspettiamo. Eccolo, finalmente si sta alzando l'UFO, vediamo un po' cosa c'è qui sotto. Ed è la Kia Stonic, nuovo subino di segmento B della casa coreana. Stanno lavorando bene, non so mi dai di buono? Ti piace di più la Stonic che stanno appena presentando, o la Sportage? Stonic, Stonic, il bel colore. Ma ti piace di più la Stonic o il C-Tonic? Stonic. La Stonic? Ha detto che fa schifo. No, no, è buonissimo. Allora, parlami di questa nuova Stonic. Stonic, in realtà, non saprei cosa dire, il colore è stupendo, non ho detto. Il colore è stupendo. Poi, secondo me, ha dimensioni giuste, non è troppo grande, non è troppo piccola, insomma, per le donne va bene. Per le donne va bene, vedi. Anche per gli uomini, però, sai, le donine, a noi piace. Ma tu che macchinai? La Smart. Esatto. Che ho la Smart? Qualcuno, però? Vedi, graffissimo. Basta fatta, ragazzi. Giuseppe Bitti, amministratore delegato di Kia Motors Italia. Ciao, Giuseppe. Ciao. Questa mattina sono venuto con una macchina molto speciale, la Optima Drive Hybrid. Sì. Molto particolare. È molto particolare. È una delle nostre novità, no? Perché abbiamo proprio da pochissimi giorni presentato le due nuove nate in casa Kia per quanto riguarda l'hybrid e soprattutto perché parliamo di plug-in hybrid. Quindi parliamo della declinazione tecnologicamente più sofisticata del librido che permette, grazie alla ricarica anche domestica, di caricare le batterie e quindi di avere un'autonomia di quasi 60 km con velocità massima fino a 120 km all'ora. Poi chiaramente nei tratti exurbani tutti i vantaggi del librido quindi consumi bassissimi e supporto del motore elettrico alle performance del motore tradizionale benzina. Io l'ho trovata molto intelligente perché a differenza di altre plug-in hybrid che avevo guidato fino ad oggi questa batteria se la gestisce a differenza invece delle altre che hanno invece un utilizzo della batteria diciamo prioritario soprattutto all'inizio e quindi darei un'elettronica molto intelligente molto più fatta è un'elettronica è pro-utente Sì, è pro-utente anche perché proprio anche in base a quello che viene il percorso che viene programmato quindi tramite il navigatore viene utilizzato proprio quella che è la disponibilità e l'autonomia della batteria per non sprecarla ma per avere sempre la massima sinergia tra il motore termico e il motore elettrico quindi è questo che fa sì che sia da guidare confortevole piacevole da guidare ma anche soprattutto molto economica in termini di consumo ma soprattutto in termini di emissioni. e questo si sente abbiamo visto anche che state puntando molto ovviamente giustamente sulla Stonic come sta andando? La Stonic sta andando molto bene devo dire che è una chiusura di anno importante per noi perché Stonic ha veramente dato un colpo di reni se così possiamo dire a un anno già molto importante per noi perché non dimentichiamo che abbiamo presentato nuova Rio nuova Picanto quindi diciamo che qua al motorshow tiriamo un po' le somme e possiamo essere contenti sicuramente molto bene grazie grazie a voi buona giornata sto facendo il motorshow esattamente come lo facevo quando era ragazzino ovvero con lo zaino in spalla mitico direi forte presenza di Fiat con il brand Fiat Jeep eccola qui poi Mopar per quanto riguarda la personalizzazione non male sempre spettacolare la 4C troppo bella questa mi ricorda qualcosa la Gran Lusso bellissima 2018 Maserati Ghibli top anche per Alfa Romeo un colore un po' strano qui sullo stand un blu un po' puffo piace? molto bello anche a me piace non è male anche se questo di blu mi piace decisamente di più grandissima l'officina meccanica Rezzatesi motore V12 da 700 cavalli direi assolutamente Aventador invece per quanto riguarda la costruzione di vetture questo è un telaio della 488 che corre alle mani bello no? si punta sul blu anche qui alla Citroen con la C3 Aircross andiamo avanti ciao a me ari se volete vederla venite qui a Motor Show la potete vedere dal vivo anche qui un'altra C3 Aircross e poi se vi piace invece il mondo dei rally potete toccare con mano la C3 WRC un altro oggetto molto interessante di questa Motor Show di Bologna è la DS7 arriverà il prossimo anno in concessionaria una linea sicuramente molto originale lancia assolutamente il gruppo PSA nel premium sia da tutto di vista di materiali che da tutto di vista di stile arriverà anche ibrida piattaforma EMP2 stile assolutamente personale usciamo da DS entriamo qui in Peugeot manca la mia 308 TCT non la vedo più esposta però in compenso c'era 208 di Paolo Andreucci bella ci sono anche un po' di moto l'usato che sembra nuovo eccolo qui e poi anche la macchina della polizia qui la sfida si fa ardua preferite la Lamborghini Huracan della polizia o la combo Lotus Evora e Giuliona dei carabinieri posso dire la Huracan è meravigliosa ma questa Giulia dei carabinieri ragazzi beh tanta roba anche se io ragazzi le macchine della polizia e dei carabinieri preferisco una cosa questo ma come si fa a salire in questo allora per salire aermanti Mp3.9 allora per salire faccio pure la mano destra qui piede sul sedile e la sinistra sul tutto molto bene faccio così poi vado giù piano piano che spettacolo posso stendere pure le gambe tanto non si c'è maniera si può toccare tutto quello che vuole si può toccare tutto bene allora io parto ragazzi ciao a presto rivederci il mitico sedile è stabile basta io posso tirare tramite io tiro questa ok tiro qui ma se tirassi io parto non è carico non è ingaggiato con i piedi cosa comando i due comandi sono a terra del rodino ok una volta staccato da terra per il timone di direzione che abbiamo dietro la deliver questa è la cloche si puoi muovere di sinistra avanti e indietro bellissimo e il motore dove si dà gas qui allora questa è la moneta motore moneta motore che spettacolo non ti vede gol beh io direi sempre sempre al massimo a manetta vabbè ragazzi io mi scrivo le frecce tricolori chi sa se mi prendono qui c'è più ala che macchina bellissima una formula PSAE università di Brescia abbiamo qui chi sei tu Federico ciao Federico buongiorno spiegami un po' questa macchina mi spieghi intanto una cosa che non ho mai capito perché hanno il passo così corto allora il passo corto perché girano in circuiti creati in delle piste che però non seguono stile formula 1 cordoli sono dei circuiti creati con dei birilli in cui ci sono curve molto strette ok quindi il passo corto serve essere e tutta questa ala che c'è più ala che macchina allora le ali sono molto grandi più di più della macchina più della macchina esatto però comunque servono servono a tenere che velocità fa questa automobile allora velocità massima nei circuiti in cui si gareggia non sono altissime perché sono molte curve e molto strette però di massima arriverà sui 100-120 all'ora insomma non è male motore motociclistico vedo che motore è tre cilindri è un motore triumf triumf tre cilindri ok triumf 675 perfetto di serie esce con circa 100 o qualcosa cavalli però viene limitato per regolamento con una restruzione sull'elettore di aspirazione una cosa che mi piace molto è che le sospensioni oltre a essere push road dietro e pull road davanti hanno i braccetti fibra di carbonio sono fibra di carbonio o solo rivestimento no no sono in fibra di carbonio con il terminale invece che viene realizzato in alluminio in alluminio in alluminio fresato giustamente da officine meccaniche rezzattese giustamente li ho viste anche prima con anche parte della scocca inferiore in fibra di carbonio immagino sia un traliccio di tubi rivestito con un telaio tubolare dalla macchina passiamo alla moto è un pre-moto 3 telaio traliccio di tubi motore KTM due e mezzo quest'anno si correrà con il KTM adesso c'è un'onda c'è un'onda sotto lo dovete cambiare lo dovete cambiare andate con KTM bellissima devo dire è un pre-moto 3 come mi dicevi giustamente bella l'aerodinamica bello il telaio il traliccio di tubi bella l'installazione mi piace molto anche il forcellone che immagino realizzate tutti in casa scatolato in alluminio piegato ad acqua mi sembra è possibile piegato ad acqua con l'amortizzatore posteriore molto bello infulcrato nel telaio qui nella parte superiore poi con il leveraggio nella parte inferiore davvero bellissima come moto quanto pesa? pesa 90 kg 90 kg beh come una moto 3 anche perché lo è quando è che corre questa settembre 2018 d'Aragon e intanto qui fanno il briefing per la formula SAE immagino per il regolamento della pista sì perché dovete sapere che il motoshow non è solamente macchine moto belle ragazze come avete visto ma anche corse all'esterno nell'area qui fuori la mitica area 48 qui ci ho passato un sacco di tempo su queste tribune le ho consumate c'è ancora il mio segno in quella tribuna lo vedo benissimo eccola qui grandi sogni qua ho visto anche tante volte la Ferrari fare i cambi gomme e poi grande edizione anche del Memorial Metega però caldo freddo caldo freddo caldo freddo va a finire che mi amano speriamo di no qui sento un profumino di olio di quello da officina di quello di macchine un po' agé ma sempre bellissime Stratos 037 lancia fulvia delta integrale c'è davvero di tutto meraviglia delle meraviglie questo padiglione venite a vederlo perché ci sono delle cose che sono davvero spettacolari dindo cos'era bella sta macchina anche qui meraviglia delle meraviglie quando insegnavamo a tutti come si correva nei rally questa è un delta integrale preparato per i safari rally a corso nel 88 di questa c'è anche un'insanita che corre la 155 CTA del 1992 poi è arrivata la variante super turismo bella con questo arnese qua ci va in giro anche Galeazza e Milano questa è la marcia 732 che nel 73 utilizzò anche Vittorio Brambilla per correre nella Formula 2 questo gli consentì le diverse vittorie in queste macchine gli consentirono di arrivare in Formula 1 e di vincere il Gran Premio di Zeltweg con un incredibile incidente al traguardo nel 1975 se non vado errato grandissima vittoria di Vittorione Brambilla devo dire che solo questa parte storica vale una visita a Belle e le Vespette qui dietro di me è molto bella anche la collezione di Volvo l'avevo già vista anche a Torino ma anche questa vale veramente la pena bellissima la BTCC di Raidel a corso nel 1995 anche per i nanti successivi con anche carrozzeria station wagon questa era una delle caratteristiche peculiari di questa macchina che qui invece è esposta in variante berlina top assoluto il Ferrarino di Cleo Ragazzoni questa macchina ha fatto diversi risultati eccola qui tutte le gare in cui ha corso dello chassis numero 14 la macchina molto bella non molto vincente ma molto bella la golden era dei rally se non vi piace nulla di quello visto fino adesso magari potrebbe piacervi questo squalone da rally e anche qui spettacolo assoluto mondiale e anche qui spettacolo assoluto con una versione barchetta sempre meravigliosa mi piaceva moltissimo questa grafica Martini che poi è stata ripresa da Williams recentemente che questa 1982 è ovviamente la LL LC1 e poi ci spostiamo anche qui in era più moderna guardate che spettacolo questa macchina con la lancia Beta Monte Carlo turbo meraviglia delle meraviglie qui credo che il nostro fotografo di rally andrebbe via di testa vero Manrico bene ragazzi anche qui mi potete abbandonare 126 CK la macchina di Gilles Villeneuve mamma mia che spettacolo la voglio assolutamente bene usciamo da questo padiglione storico ci avrei perso tutta la giornata qui dentro ma voglio andare a vedere cosa c'è ancora qui a Motor Show qui entriamo in un'area un pochino più racing di kart della CRG una Red Bull qui esposta buttata lì così carina una Lamborghini messa giù da Imperiale Racing e poi una Porsche Carrera Cup di Ghinzani noto pilota di Formula 1 qui abbiamo BMW con la GT3 anche questa è una macchina che mi piacerebbe molto provare in BMW se mi ascoltate fatemela provare e poi questa spettacolo Villorba Corse LM P2 ha corso anche alle man mi sembra sono entrati nei primi dieci è una vettura progettata da dall'area e portata in pista da Villorba Corse e poi mentre passeggi guarda chi becchi ciao sono Giorgio Sernagiotta uno dei piloti dell'area LM P2 di Villorba Corse questo ha fatto le man è uno vero di piloti allora come è andata è durissima benissimo abbiamo fatto noni assoluti alla prima partecipazione vedi ci avevo azzeccato avevo detto nei primi dieci grandi perché non mi ricordavo più se eravate arrivati vicino ai dieci o entri ai primi dieci bravi sentimi di categorie noni assoluti beh tanta roba tanta roba com'è correre alle mani di notte bravissima entri nel tuo tunnel nel tuo mondo lì ti rendi conto perché le mani è così mitica in realtà ti caghi anche un po' ma la curva più più fotonica di tutte qual è? le push curve di notte è pazzesco ma si vede qualcosa? si vede abbiamo dei superfire ma sono a led? si vedi? ma spiegami questa macchina quanti cavalli ha? 6,20 si motore Gibson Cosur telaio dall'ara appunto siamo appunto il team completamente italiano Villorba Corse siete veneti siete veneti certo siete veneti poi in realtà lo sponsor è di Pisa di Pisa che tra l'altro è un'azienda di Roberto è un'azienda farmaceutica fanno pomade antifiammatori integratori ecco bene la usiamo tra l'altro serve veramente si veramente funziona ottimo bravissimi ciao ragazzi anche qui entriamo in un ambiente a me caro la Oregon con il loro corso con la Clio Cup l'RS01 che hanno che vorrebbero omologare stradale speriamo ce la facciano e anche qui invece un'altra vettura invece di LMP3 ma fagioli hai già passato andiamo a Hyundai con la i20 vrc e poi passiamo anche al prodotto stradale la i30n sta per Nürburgring e sta anche per alte prestazioni una macchina che piace molto al nostro Albertino certo che quando ero ragazzino lo zaino mi pesava molto meno se vi piacciono le Lamborghini c'è anche questa Aventador colorazione direi militare oppure anche una bella super veloce eccola qui andiamo a vederla insieme spettacolo meraviglie delle meraviglie suono incredibile mi piace tantissimo questa macchina se volete vederla dal vivo anche in questa colorazione arancione molto spettacolare beh fatelo potrei farla così la mia smart sobria uno sguardo in volvo non poteva mancare la Ferrari con la nuova portofino l'erede della California si vede che arriva bello c'è anche Tesla qua al motoshow di Bologna in forma ufficiale con la Model X e la Model S se vi piace l'avventura potete sempre puntare su questo sui fichicci stra personalizzato una veloce carrellata su quelle che saranno le auto dell'anno andiamo con la BMW Serie 5 la Kia Stinger l'Audi A8 l'Alfa Romeo Stelvio la SUV chiamiamola così Peugeot 3008 poi andiamo nel mondo diciamo più basico più segmento B la C3 Aircross quella qui poi abbiamo di nuovo un altro SUV che è la Volvo XC40 in questo caso nella versione T5R all wheel drive e poi la SEA Ibiza voi tra tutte queste quale votereste? fatemelo sapere nei commenti mitica officina della piada quella è la piada del giorno del giorno sì cipolla e piperoni ottima cipolla e piperoni ottima vediamo andiamo di simulatore entrare nella scocca di Formula 1 non è esattamente il mio però potrete imparare grazie bello già si inizia bene già si inizia bene qui è qui si inizia bene Presidente Sticchi Damiani, buongiorno, è contento di Alfa Romeo, del ritorno di questo nome, di Formula 1, del ritorno come sconsolizzazione di Sauer ovviamente? Beh, è un fatto straordinario, bellissimo, lo speravamo, era così, se ne parlava penso che sia un fatto storico, che dopo tanti anni in questo marchio ritorni sulle piste di Formula 1 il marchio a cui tutti gli italiani sono legatissimi perché a differenza della Ferrari che è rappresentata spesso un sogno impossibile, la Ferrari è stata molto spesso un sogno impossibile, quindi ci sono tanti alfisti che si sentiranno in qualche modo coinvolti in questa avventura della Formula 1 L'Alfa ci fa battere il cuore e speriamo che appunto il Formula 1 riesca ad avere grandi successi che merita e ringraziamo molto per la disponibilità, buona giornata e con questo finisce anche il nostro Motor Show, non mi rimane che invitarvi a commentare su Youtube, su Facebook e naturalmente Sottomoto.it Ciao!